io non riesco più a stare tranquillo ad essere sereno con questa roma un'altra notte passata in bianco a non dormire a pensare a ripensare pensare ripensare a voglia a prendere camomille mi date nervoso siete mediocri siete una banda di debosciati non avete neanche amor proprio per voi noi tifosi ci teniamo molto di più di voi che in campo dimostrate di non essere all'altezza per niente ieri l'inter con il minimo sforzo per carità poteva segnare il 2 a 0 è santo svilar che ci ha salvato in diverse occasioni meno male che ci abbiamo quel portierone ma voi andate sotto porta e tirate gli straccetti bagnati non ci avete per niente forza non ci avete verve non ci avete transagonistica quella che vedevo un tempo qualche anno fa se non arrivavi con con il gol se non arrivavi con con la forza ci mettevi almeno quell'impegno in più quel 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 cuore quella rabbia quel fuoco invece quest'anno non vedo niente siamo 10 decimi in classifica a 9 punti dalla vetta dal napoli che l'altro anno è arrivata dietro di noi per carità quest'anno a conte è tutta un'altra storia noi abbiamo iuric che gli sta bene tutto pure ieri ha visto una grandissima roma ha giocato benissimo bravi tutti aiuric vabbè che devi parlare così perché ti fa comodo come ha fatto de rossi all'inizio no però tanta la fine a noi non ci prendi per il culo li vediamo i giocatori la vediamo la squadra che non risponde è una squadra mediocre è una squadra senza carattere assolutamente ci prendono per il culo anche le televisioni o dicendo complimenti iuric la roma è stata in partita fino alla fine non ha preso l'imbarcata contro l'inter e meno male meno male pensa come ci considerano una squadra che doveva prendere un imbarcato e non l'ha presa bravi fenomeni bravissimi pensa come ci considera oggi la la tv il gli gli opinionisti giornalisti gli addetti ai lavori una squadretta piccola così così piccola senza significato senza senso eppure avete speso 120 milioni doveva essere una squadra migliorata in tutto e per tutto e invece ieri soltanto due nuovi acquisti ci sono stati nella squadra di dolare con e e dobic il resto nulla ma che mercato avete fatto avete speso soltanto e avete comprato calciatori che a questo punto non hanno non hanno reso fino ad oggi e poi speriamo che in seguito possano diciamo cambiare rotta ma vi rendete conto di quello che abbiamo messo in campo ieri il nulla l'inter è stata proprio tranquilla beata ripartiva in contropiede e poteva segnare in ogni momento hanno sbagliato fortunatamente alcuni gol bravissimo come ripeto svilar primo tempo abbastanza equilibrato ma nel secondo tempo mettici più forza mettici più garra mettici più voglia ma è possibile che noi siamo sempre a questi a questi livelli così bassi da squadrette che devono salvarsi io ho visto l'Empoli contro il Napoli ha giocato proprio alla morte ha giocato con con la voglia con con quella rabbia di campo ovviamente non per fare male al Napoli è vedo il Cagliari contro il Torino che ti che ti ribatta la partita con coraggio sono stati sono stati dei gladiatori quelli del Cagliari e squadre che sulla carta sono inferiori alla Roma ma sulla carta perché a questo punto devo pensare che non che non sia neanche così che non che noi stiamo agli stessi livelli di queste squadre stiamo ai livelli di 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 club che si devono salvare dalla serie B e ragazzi parliamoci chiaro la Roma non ha non ha voglia cioè non non la fa trasparire ecco diciamo così non non ce la fa vedere no non c'è quest'anno due vittorie fino adesso su dieci partite di cui una contro il Venezia che neanche sappiamo come ci siamo riusciti solo contro l'Udinese abbiamo vinto 3 a 0 perché c'era la contestazione vi siete cagati in mano avete effettuato la la partita della vita ieri contro l'Inter si squadra meravigliosa fortissima l'Inter che ne che che cosa gli vogliamo dire ma avete visto che differenza che c'è tra noi e loro che loro appena arrivano in porta te la spaccano la porta con Lautaro noi tiriamo gli straccetti tiriamo i panni i panni da da lavare le pelle di daino tiriamo in porta non c'abbiamo quella quella quel carattere e poi mi metti sempre questi gli stessi calciatori mi levi con me lasci cristante mi levi di bala nel finale quando devi recuperare una partita non mi dire che di bala ieri stava male mio caro ieri c'è fallo giocare fino alla fine ma che ci abbiamo paura di perdere il santo tanto alla fine poi si fa male ugualmente di bala perché gioca una sì e dieci no stava bene ieri fallo giocare fino alla fine alla fine mettici su lei devi recuperare la partita falli giocare insieme lo so che siamo tutti allenatori poi dopo quando finisce la partita per carità però concedimi di dirlo perché per te va tutto bene una squadra ottima meravigliosa ma di chi ma di che cosa ma di che cosa ma ma dove l'hai visto ma contro l'intere io mi aspetto che in casa con quello stadio a parte dei 15 minuti iniziali tu possa essere più cattivo più pericoloso sommer ha fatto una parata all'ultimo su 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 le poi a parte l'autopalo la che sarebbe buttata da solo non ho visto tutti questi gran tiri ecco giusto su pellegrini sì ma noi svilare è stato miracoloso in diverse occasioni e l'inter ha vinto poi è senza essere così affaticata l'inter anzi sembrava avesse qualche problema fisico perché non è stata sempre la stessa inter pimpante no però con il minimo sforzo si è portata tre punti anche a tre punti a casa non demeritando anzi ha meritato di vincere l'inter devo essere onesto sincero perché perché noi non ci abbiamo carattere noi siamo mediocri siamo una squadra mediocre che cosa abbiamo intenzione di fare quest'anno che cosa che cosa volete fare ditemelo ditemelo dobbiamo fare la lotta per la salvezza avete la società dove sta quando parla ha preso iurice ha dato ha mandato via dei rossi per vincere i titoli con iurice lo sto vedendo quanti titoli potremmo vincere con iurice per carità lui è l'ultimo dei responsabili perché è arrivato da poco anche se non mi piace quando dice quello è bravo qui sto in paradiso quello è un giocatore da dio e gli piace tutto perché vive in un sogno iurice poi mica tanto perché se andiamo a guardare questa roma non è tanto migliore del suo torino è se continuiamo di questo passo perciò ragazzi io sono veramente preoccupato sono al limite della del non essere più sereno con questa squadra perché veramente possiamo perdere contro chiunque siamo una formazione mediocre ma dal punto di vista caratteriale e tecnico e tattico cominciamo bene questa settimana ciao a tutti